Cosa da discutere? Oh, beh, nessun problema, tanto ho quasi finito il mio lavoro. Prima che se ne vada vorrei chiederle una cosa. Senta, Lien, le ha mai detto niente sul perché Kelly e Tracy si sono lasciati? No, dice che Kelly non vuole parlarne. Darei qualsiasi cosa per sapere cosa è successo fra quei due. Beh, Sam, so solo che Lien è molto preoccupata per Kelly e ogni volta che le telefona lei taglia corto. Soprattutto negli ultimi giorni. Le voleva telefonare anche dopo aver saputo del suo arresto, ma Tracy le ha detto di non farlo. Avanti. Ah, Dick, sei arrivato subito. Sai che mi faccio pagare l'urgenza? Kate, questo è Dick Bryson, è un vecchio amico. È un ottimo avvocato per quando sia nei guai. Dick, questa è l'assistente di mia moglie, Kate Wells. Signorina Wells, molto piacere. Signor Bryson, visto che dovete discutere di affari, vi lascio soli. È stato un vero piacere. Anche per me, grazie. Dunque, Sam, di che si tratta stavolta? Ho un lavoro per te. Uno di quelli che mi piacciono tanto... Non mi interessa se ti piacerà. Voglio che trovi il sistema di dimostrare che Kelly Harper non è una buona madre. Fantastico, Lien. Saremo lì fra circa una mezz'oretta. D'accordo, grazie, ciao. Era la dottoressa Berry del reparto disintossicazione dell'ospedale. Ti piacerà? Io non ci vado. Telefona all'ospedale e dille che ho cambiato idea. Non voglio andarci più. No voglio andarci più. No voglio andarci più. Grazie a tutti.